Sì, ti frega, eh? Sì, ti frega, eh? Sì, ti frega, eh? Come le chiami te? Cosa? Quei funghi rossi. Ah, le rosselle? Noi qui si chiamano le penneccele. Le penneccele? Sì, quelle che le fai sulla griglia. Sì. Cosa? 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 Lì c'è un convento con le cappelline dei frati con tutte le statue di terracotta, la ceramica, ci si mangia anche bene, le cappelle di preghiera che sono decorate con le statue di terracotta smaltate.